Ciao amici, bentornati su Pausa Caffè Live, parliamo di grande fratello perché c'è stato un momento molto difficile, molto tosto per Luca Salatino. Ebbene, dopo la puntata il concorrente si è reso conto di aver fatto qualcosa di molto positivo e si è pentito della scelta fatta. Un vero e proprio crollo è avvenuto nella casa nonostante il suo compagno di avventura, Charlie Gnocchi, abbia tentato in tutti i modi di farlo stare tranquillo. All'interno delle mura si è sfogato con il fratello di Gene quindi e poi se n'è andato in giardino. Qui poi si è messo a piangere, lacrime copiose sul suo viso, ma c'è un motivo ben preciso dietro questa sua tristezza. Ma le sorprese non finiscono qui perché non soltanto Luca Salatino, protagonista in queste ore, anche Giulia Salemi ha asfaltato di brutto Ginevra Lamborghini e Antonino Spinalbese, due al prezzo di uno. Protagonisti di un incontro definito molto forzato dal pubblico a casa e in effetti tra i due vipponi non c'è mai stato niente e in due settimane di convivenza è difficile che possa essere nato un rapporto di vera amicizia come tutti sostengono, perché tutti lo sostengono. A sostegno della coppia ovviamente c'è Alfonso Signorini che non perde occasione per stuzzicare i due mettendo in mezzo anche Giaele, ma che c'entra Giaele, ma povera Giaele. Quindi dispiacere enorme per Luca Salatino che è stato devastato dai pensieri dopo il gesto in puntata. Alfonso Signorini, mentre si apprestava a fare la sua nomination, sì, nomination segreta però, lo ha invitato a rivolgersi direttamente alla sua fidanzata Soraya Lamceruti, ma da parte sua è arrivato un saluto. Saluto ritenuto troppo frettoloso e privo di grandi emozioni. Presumibilmente non se l'aspettava quella frase da parte del conduttore, ma ripensandoci è rimasto molto male per ciò che ha fatto in diretta. Questo l'amaro commento di Luca Salatino nella mattinata del 25, ovvero Ieri avevo l'occasione di salutarla bene e non l'ho fatto. Non le ho dato la giusta attenzione. È come se avessi denigrato quello che provo per lei. Charlie Gnocchi però ha aggiunto Qui non è facile essere giusti. Ogni cosa che fai, sbagli. Ma gli è anche detto che la sua partner lo conosce bene e che quindi non dovrebbe più di tanto preoccuparsi. Ma nonostante non sia stato molto bravo con le parole, Soraya sa perfettamente quanto lui la ami. E comunque, questa la lettera di Soraya pubblicata dal settimanale di più, che dice Non dare neanche troppo peso alle discussioni. Abbandona le tue malinconie e pensa soltanto a noi, ai nostri progetti futuri. Ne abbiamo già parlato, ma quando sei entrato nella casa del grande fratello, era ancora qualcosa di astratto. Un sogno che però ora si sta concretizzando. E insomma Luca, voglio dirti che dopo essere uscito da quella casa, ce n'è un'altra che ti aspetta. La nostra casa. Ho iniziato a progettare tutte le stanze. E quindi, il programma continua, mentre lei continua a fare l'architetto e vedremo cosa ne uscirà fuori da questa storia. Sicuramente sentiremo ancora parlare di loro. Per quanto vi riguarda è tutto, un saluto da Max. Noi ci risentiremo e vedremo su Pausa Caffè Live. Vi aspetto.